Mi chiamo Paolo Colagrande, di professione scrivo delle cose, tra cui anche dei libri e faccio anche l'avvocato un pochino più per hobby, insomma a tempo perso. Gianni Damo è soprattutto un amico carissimo, da circa 15 anni, prima lo conoscevo solo di fama, un po' lo temevo anche perché era un po' un'icona per una generazione che è molto vicina alla mia, ma non così vicina. Quando l'ho conosciuto poi mi sono affezionato. Gianni credo che sia fondamentalmente un generoso, dovendo di istinto trovare un aggettivo, al primo posto metterei generoso, uno che spende molto di sé con tutti, con gli amici, ma anche con le persone che non conosce, cioè che non ha timore a svelarsi. Gianni è un sindaco possibile per le stesse ragioni per cui è un possibile amico di tutta la città, intanto per la sua generosità e la sua onestà intellettuale, che è una brutta espressione perché oggi è abusata, ma lui ce l'ha sul serio. Credo che Gianni ci si possa affezionare per quello che dice, cioè è bello ascoltarlo, ma per come sa ascoltare. È bello farsi ascoltare da Gianni. Una città come Piacenza potrebbe avere bisogno di Gianni perché secondo me Piacenza è idealmente divisa in due parti che non sono necessariamente la parte buona o la parte cattiva, ma c'è una parte addormentata e una parte invece sveglia, ma tenuta un po' in gabbia. Secondo me Gianni rappresenta la parte più sveglia e tenuta in gabbia, ma le idee di Gianni, l'energia di Gianni riesce anche a far svegliare la parte di Piacenza che è addormentata, quella che potremmo definire più conservatrice. Perché io D'Amo? L'amicizia con D'Amo è nata proprio perché riconosco in D'Amo qualcosa di me, qualcosa di me che magari non è così compiuto, così chiaro, così limpido come invece si manifesta in D'Amo. Questo sguardo, sguardo rivolto sempre alla gente e all'aspetto umano delle cose, Gianni ce l'ha in maniera molto precisa. Nello Benazzi è un personaggio di due dei miei libri, è un personaggio quasi forse protagonista di un libro che si intitola Fideg che è uscito nel 2007 e tutti dicono che è Gianni D'Amo, cioè che Nello Benazzi è… se mettiamo la faccia di Gianni D'Amo in Nello Benazzi, Nello Benazzi scompare, diventa Gianni D'Amo. In realtà Gianni D'Amo è meglio di Nello Benazzi, hanno un po' la stessa testa, gli stessi pregi, gli stessi difetti che sono tantissimi anche in Gianni D'Amo. Gianni è meno avaro di sé, che è un'espressione sua, è un'espressione di Gianni quella, è una critica che viene fatta spesso a molti suoi colleghi politici. Nello Benazzi è un po' avaro di sé. Gianni più spontaneo, più generoso, più aperto, più solare.